Si carica, si carica. Il fumo l'abbiamo fatto. Abbiamo fanteria su tutto il ponte. Occhio che di sicuro c'è un carrappeno, usciamo sulla sinistra. Ok. Ah, ho Ponton Bridge. Ponton Bridge è in basso. Questo era un colpo di cannone però su di noi, l'hai sentito? No, ma non ci ha preso noi. Aia! Vai, 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 vai. Non ci ha colpito? No, non ci ha colpito, però rimani. Fai veloce, vai subito sulla destra ora. Ferma un attimo. Siamo smocchiamo e poi andiamo dietro noi, ok? Allora, smocchami, smocchami e spara 2H nel gruppo. Smocchali davanti. Un secondo, sto caricando gli high smoke. Just wait, noi proviamo di un'esplosiva. Just wait. Spara 2H nel gruppo. Spara 2H nel gruppo. Spara 2H nel gruppo. Stai dietro al ponte. Stai dietro al ponte. Stai dietro al ponte. They are throwing grenades. Infantry 12 o'clock, guys. Fermo, 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 fermo. Orcoli. c'è un caro sulla sinistra ma un cd non si prende pittai aiuta aiuta aiutata è ora 11 dietro al ponte non ci vede dai tu vede spost stai laggando con animale aspetta che sparano colpo parati web a tagliare della spazio e canto limo for me left dove per favore 11 appena oltre quanto è del ponte sulla sinistra messo in mezzo al bosco non vedo non puoi vedere la coperto ok buono limitati a sparare davanti a noi per la fantaria per ora ragazzi noi possiamo andare da qui possiamo solo tirare l'infanzia dell'infanzia ma possiamo avvenire vedo un colpo passare a due centimetri da noi no 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 on the bridge dall'altra parte di un ponte ma questa non ho ricostruito se vado indietro riesce a vedere da provare un colpo sul che è anche caro il pilato 1 allora fare come un altro esplosivo davanti si vado di nuovo se dentro ok direi che ora puoi switchare c'è ancora un sacco di fanteria fermo 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 basta non posso oggi che per il caro 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 fermo lì or coli per il fuorlo provera sparati sta calvo there is a many thanks guys not only the tiger and other tanker in the middle of the road but support è un panzo no è un tiger straw è un tiger fermo 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 non ti muovere resistiamo oh è morto è morto è morto è morto guys the tank is down the tiger is down advance advance stuca in testa fermo ok fermo qui che è pieno di fanteria dietro fino che è pieno pieno assagli altri esplosivi altri esplosivi guys we are starting to move with the firefly are we ready no stro non possiamo muoverci ci sono almeno 4 vai dobbiamo farlo no stro ci crepano stro ci ammazzano sono 4 almeno 5 safe di fanteria ok ragazzi ma stanno lanciando tutti i fumogini e avanza la fanteria eh devi avanzare prima la fanteria e poi noi noi li copiamo da dietro se no crechiamo ci muoviamo al bunker piano piano non si riesco a tirarglielo giù quel cazzo di bunker non si distrugge fisso non è uno di quali che costruiscono loro fermo 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 mi sembra aver visto un carro qui si c'è qualcosa ci è mancato fermo 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 non ti muovere stro se mi sposto a sinistra siamo coperti eh ho visto una f... ok fermo fermo che c'è una pante... crepa bastardo crepa anche te c'è un altro tema guys in the middle of the road stay behind us stay cover ok allora io posso provare a coprire la fanteria però noi non... deve andare avanti la fanteria noi non possiamo andare avanti da soli non riusciamo a prendere quel bunker davanti a noi come base di... no non da soli perché non sappiamo cosa c'è dall'altra parte è pieno di fanteria che spunta da tutte le parti ci vuole la fanteria lì che pulisce poi possiamo avanzare provare a smoccare e muoverci contro il bunker ehm... però io non posso smoco io non posso... il problema al stro è la fanteria noi non possiamo fare l'intera contro la fanteria a queste distanze ehm ci sparano fuori guarda guarda ti è scutato un'altra ora di nuovo fuori vabbè se stiamo su questo ponte si è morti capisci ehm fanteria davanti a noi ehm guys in germani infantryman ehm just passing the sandbags there is mc42 don't move don't move davanti a noi spara un AK davanti a noi qui dove ci sono i ripari basso 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 a destra non è ripare a destra quello lì lo vedi? si stro però io non posso sparare se ti muovi appena dietro quei ripari se gli spari li muore aspetta che... eccolo lì vai è morto ho preso un 792 in testa ferma lì che spara un AK un attimo i nostri stanno caricando da destra per quello dovremmo raggiungere il bunker nel bunker questo è morto cioè non... vedi che c'è l'affantire che si vuole in continuazione qui appena arrivano spuntiamo lì ci sparano fermo però finchè non prendiamo il punto loro continuano ad avanzare lì si l'affantire deve fare qualcosa non possiamo fare niente fermo 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 qui ora dobbiamo aspettare qui l'affantire che si muove io continuo a uccidere la gente ma... c'è un carro là dietro passa di perforanti hanno appena sparato abbiamo un cingolo danneggiato torno indietro stro non posso muoverci il cingolo è andato fermo 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 oh no stai fermo smocami scendo a riparare ok no non credo sia davanti a noi eh è sulla sinistra di sicuro tu stai fermo stai riparando tu vedi? si vedo io siamo on entro e andiamo via vai vai no più che... si stai sulla destra cerca di stare più possibile sulla destra fermo fermo ah c'è un carro sulla nostra destra ore 2 mi sposto guarda lo vedi? fuma lo vedo avanti 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 di poco guarda fermo fermo porca la puttana ciao 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 ciao